Are you ready to have some fun? Porretta! Tony Poulsen, l'orchestra e alcuni pezzi del 90 come Larry Springsteen, abbiamo John Emmett, abbiamo Terrio Dabi, J.P. Vimeni e i Black Belt, Euran Thomas, Fred Wesley per una serata dedicata a James Brown con Martha Haig. Sono veramente tanti gli artisti e tra l'altro in un contesto come quello dello street food dove all'interno dello street food avremo il Rufus Thomas Café, ovvero uno stage all'aperto per concerti gratuiti dalle 11 del mattino alle 7 di sera. E poi tutti si trasferiranno qui a Rufus Thomas Park e chi vuole può anche approfittarne per fare una passeggiata per le vie storiche di Porretta e vedere questi meravigliosi murales, vedete uno alle mie spalle, ma sono veramente tanti, sono ben 13 murales che raccontano un pochino la storia del Porretta Soul Festival ma soprattutto la storia della Soul Music. Grazie a tutti!